Bene, cominciamo. Questo tipo di ipnosi richiederà molta concentrazione. Potrete sudare, andare in panico o addirittura tremare. Qu'è cosa vuoi da me? La tua anima. Che sta succedendo a te? Puoi stare tranquillo, Ita, che nessun significato macabro ha a che fare con i tuoi sogni. Questo non è un gioco, mi sta distruggendo. Io volevo divertirmi. Ma adesso come faccio a divertirmi? Ita! Questo è una fottuta maledizione! Come faccio a divertirmi!